Senna è passato sul traguardo, Bussen deve ancora affrontare l'Alva. Senna si ferma, Senna si ferma, Bussen al comando della corsa, Patrese torna a secondo, si ferma anche la McLaren di Ayrton Senna al 66esimo giro concluso, nel corso del 67esimo Senna è costretto a fermarsi, Bussen al comando della corsa seguito da Riccardo Patrese. Veramente si aspettava una corsa combattuta e ricca di colpi di scena e questa è la ciclina sulla torsa, si potrebbe così dire, naturalmente.